ciao un nuovo ordine a panda all da 38 euro totale il resto dei dati vi scriverò in box informazioni inizio guardate sono bellissime questi sono dei 10 mm perché non si vede bene così veramente molto bella vi farò vedere tutto questi si vedono bene quindi non non li aprirò che non si vede bene li apro subito perché non voglio fare troppo lungo il filmino perderò un sacco di tempo a ricaricarlo molto bella ho avuto anche problemi vi farò vedere questo viola viola più è viola diciamo questi sono ab molto bella sono in confezione di cinque pezzi perché ho preso piccoline volevo vedere prima come sono queste sono veramente fantastiche mi piacciono un sacco guarda molto belle poi t bar vedete così molto belle carine altri t bar foglio di vite un po' più grande altri t bar con una rosa sempre chiusure questi sono bronze con fiore poi si sono sempre con il fiore ma argento altre t bar queste sono semplicissime un po' più piccoline non so credo che ho finito con la chiusura poi inizio con questi volevo vedere come sono molto tempo mi hanno fatto con gli occhi ma li ho pesi un po' grandi veramente due millimetri mi sembrano grandi ma sono molto belle molto belle i colori sono variati quindi una monocolore vedete molto bello poi questi in porcelana di un millimetro ma non si vede bene si si vede ok questi cubi sempre porcelana con fiori questi altri in blu in azzurro poi questi li ho sbagliati io che è vero sono dei cabochon molto belli infatti molto belli ben fatti vedrò che posso fare con loro io veramente li volevo più piccoli per mettere ai orecchini non so se andrà bene ma anche come per bracciale sono molto belle abbastanza colori non è che belle pure queste dei cabochon così in vetro con le coccinelle belli pure questi 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 sono veramente piccolini beh molto molto piccoli ma ho dove metterli guardate sono veramente piccolini piccolini ben fatte in acrilico come si chiude poi poi questo anche questo mi piace tantissimo guardate veramente belle poi queste ho volto vedere come sono un po' grandi per i miei gusti hanno due fori quindi si possono mettere fare una colana con due figli mettere al centro della colana belli non posso dire che non sono belli ben fatti sono uno da ciascun colore molto belle veramente belle questo è su viola il verde è un color crema perché è bianco si un color crema molto belle niente da dire questo è il primo opaco quello che faccio solo con queste piccoline da una promozione ho detto perché no per fortuna non ho pagato dogana di questa volta questi sono polimer fimo polimer non lo so esattamente fimo mi sembra che è una marca del polimer guardate veramente belle ben fatte il foro è ben visibile bella non so un paio di orecchini starebbero meglio belli ho contatto veramente non manca una di tutto ciò che ho comprato di queste sono veramente molto molto felice guardate puoi fare una colana molto elegante questo sono con acrilico rinestone molto bello sul viola amethyst veramente bello questo comprerò anche altri colori qua mi sembra che sono una ventina no dieci pezzi dieci pezzi sono quattro un filo questo è cristale non si è venuto bene da la pire di 8 mm ma almeno bene che non ho preso grande quantità non ho preso un po' più grandi a me mi servivano qua 8 mm ma almeno bene che non ho preso grande quantità così sono 20 pezzi sono molto ben fatti vediamo belli più colori un po' di tutto se ne ha un po' di più di verde non mi dispiacerebbe affatto ma anche così sono contenta questi veramente li ho presi bene quindi questi prenderò ancora di più vediamo questi sono 20 pezzi questa è la misura giusta di solito sono un 2 con 2 mi sembrano che 2 non sono abbinati posso fare un paio di orecchini questi veramente li comprerò un'altra volta sono molto buoni mi piacciono poi questo un marone sempre un filo di 8 mm ho dei cabosoni questa colore quindi andrà va bene le uniche cose e per la prima volta che mi succede ho delle cose rotte guardate 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 questo è il mio numero di questo craclet questo craclet questo di 12 mm sono cadute assai di questi non si vede bene non lo so si vede molte di queste bene che sono solo 5 pezzi e questa è una rotta guardate veramente prima volta quando mi succede prima prendevo in grandi quantità quindi come numero sono tutte e sono abbastanza contenta se non erano queste rotte per me andava bene quindi diciamo 38 euro e 28 tutto il coupon di 6 euro trasporto 11 euro 33 qualcosa tutto bene ciao alla prossima vacci